in questo video vediamo la lettura di un codice a barre dpm col palmare UNITEC PA760 cos'è un codice a barre dpm? il codice a barre dpm è un codice a barre inciso direttamente sul metallo o comunque su una superficie qui abbiamo per fare dei test codice a barre 2d stampati su un'etichetta e dpm allora io prendo sempre un palmare android leggo i barcode stampati su un'etichetta in carta e provo a leggere dpm come vedete non vengono letti i codici a barre a questo punto prendo il PA760 apro il blocco note ovviamente leggo tranquillamente i barcode stampati su carta ma leggo anche con rapidità i barcode dpm faccio rivedere la differenza leggo su carta tranquillamente sempre un'ottica 2d performante e questo è il PA760 con ottica dpm per qualsiasi necessità di un palmare android con ottica 2d dpm potete contattarci ai nostri riferimenti per questo punto vengono del PA, 6 sapori il PA, 6 sapori il PA, 6 sapori il BRG il PA, 7